Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. La serie è quella dell'analisi circuitale. Stiamo trattando i circuiti del secondo ordine, in particolare le condizioni iniziali per stabilire le costanti integrazioni delle equazioni differenziali del secondo ordine appunto che risolvono il circuito. Bene, per il circuito in figura a t uguale 0 l'interruttore si chiude dopo essere rimasto aperto per un lungo tempo. Calcolare la corrente a 0 più e la tensione a 0 più, quelle indicate in rosso, e poi le loro derivate rispetto al tempo e quindi infine cosa succede alle stesse per un tempo che ho indicato con infinito, cioè dopo un tempo molto maggiore di 5 volte le costanti del circuito. Come prima cosa analizziamo quindi il circuito a t minore di 0. Lo ridisegniamo mettendo in evidenza il fatto che l'induttore è un cortocircuito e il condensatore un circuito aperto in quanto siamo in condizioni stazionarie. Riscrivo i valori dei componenti che sono rimasti, cioè le due resistenze e il generatore di tensione V con S rispettivamente 2, 10 e 24 volt. In queste condizioni la corrente del circuito, possiamo scrivere I di 0 meno, è uguale a 24 fratto la serie di 10 e 2, cioè fratto 12. Scriviamo 10 più 2 così mettiamo in evidenza il fatto che stiamo facendo la serie di R1 ed R2 e qui abbiamo 2 ampere. Questo è anche uguale a I0 più. Per quanto riguarda la tensione, V di 0 meno è uguale al partitore di tensione 10 2 ohm e quindi 24 per 2 fratto 10 più 2. Infatti la tensione indicata con V è la stessa che abbiamo sulla resistenza di 2 ohm. Qui abbiamo 24 diviso 12 per 2, cioè 4 volt. E questa è uguale alla tensione A0 più, in quanto, come nel caso della corrente prima, non possono cambiare repentinamente appena chiuso l'interruttore. Bene, a questo punto andiamo a vedere cosa succede a T uguale 0 più. A T uguale a 0 più, l'interruttore è chiuso, questo cortocircuita R2, e quindi ridisegniamo ancora una volta il circuito. Il condensatore lo trattiamo come un generatore di tensione che eroga 4 volt. Come detto, il resistore R2 non c'è più, ma compare un generatore di corrente che eroga 2 ampere a posto dell'induttore. E poi abbiamo il generatore da 24 volt. Indichiamo anche le polarità, abbiamo per quanto riguarda il condensatore più, meno, e per quanto riguarda l'induttore più, meno. Indichiamo anche il verso della corrente in questa maglia, facciamo verso orario, e quindi ora stabiliamo la derivata della corrente rispetto al tempo nell'induttore, cioè dI a 0 più su dT, che sappiamo essere il rapporto tra la tensione ai capi dell'induttore stesso, ed L. Quello che ci manca in questa espressione è proprio la tensione ai capi dell'induttore, ma scriviamo la legge di Kirchhoff delle tensioni per la maglia, quindi LKT. Abbiamo la tensione del condensatore che abbiamo rappresentato come un generatore di tensione, quindi meno 4 volt. Poi incontriamo il generatore di corrente, meno VL, 0 più, e poi Vs, cioè più 24 volt. Questa deve essere uguale a 0. 24 meno 4 è 20, quindi meno V con L a 0 più è uguale a meno 20, cioè V con L a 0 più è uguale a 20 volt. A questo punto, di I di 0 più su dT è uguale a 20 volt fratto L. L è 0,4 e quindi otteniamo 50 A al secondo. Per quanto riguarda la derivata della tensione a 0 più rispetto al tempo, questa è uguale alla corrente che scorre nel condensatore, sempre a 0 più, fratto la capacità del condensatore. Ora individuiamo il nodo A e scriviamo la legge di Kirchhoff delle correnti nel nodo A. Ora in arancione segno le correnti che entrano ed escono in A, e quindi abbiamo il generatore di D corrente da 2 A, corrente entrante più la corrente incognita che dobbiamo calcolare, cioè I con C, questa è uguale alla corrente uscente che scorre nel resistore da 2 Ohm, cioè V con A fratto 2. Sarebbe V con A meno 0, perché questo è il nodo di riferimento. 0 non lo scrivo, quindi V con A fratto 2. Ma V con A a 0 più è V, che abbiamo calcolato sopra, e quindi 2 più I con C a 0 più è uguale a 4 mezzi, cioè ancora 2 più I con C a 0 più è uguale a 2. 2 e 2 si elidono e quindi la corrente nel condensatore A0 più è uguale a 0. Questo ci porta a scrivere che la derivata della tensione A0 più rispetto al tempo è uguale a 0 fratto 50, cioè 0. Volt su secondi. Adesso dobbiamo stabilire cosa succede quando T tende ad infinito, e quindi quando T tende ad infinito abbiamo il resistore R1 da 2 Ohm, il tasto è chiuso, quindi il resistore a 10 Ohm è cortocircuitato, l'induttore è un cortocircuito, il condensatore un circuito aperto. Qui abbiamo 2 Ohm e qui 24 Volt. Chiaramente la corrente è uguale a 24 fratto 2, cioè 12 Ampere, mentre la tensione V, che vi riscrivo qua in rosso, è la stessa che ha il resistore da 2 Ohm e quindi 24 Volt. Bene, stabilite le condizioni iniziali, si possono calcolare le costanti di integrazione dell'equazione differenziale del circuito. Quando vedremo gli esercizi completi, svolgeremo anche il calcolo delle costanti di integrazione. Per questo video finiamo qui, in basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale, attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video, se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettetemi anche un like e vi ringrazio. Condividete su vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale, perché no? In descrizione i miei contatti, mail, Instagram, Facebook. Grazie, un saluto a tutti e alla prossima. Grazie.